Io sono Michela Conati della Cresto Italia, in Cresto Italia da luglio 2012 abbiamo iniziato questa nuova attività della diviso dei progetti della quale facciamo parte io, principalmente l'ingegner Tamagnini. La nostra finalità è quella di supportare gli studi di progettazione nello sviluppo di progettazione. Quello che noi formiamo agli studi è una consulenza, un supporto e una informazione in merito non tanto a quello che è il nostro catalogo prodotto per prodotto, ma è l'idea proprio di rendere disponibili quelle che sono le soluzioni, cioè presentare le soluzioni che Cresto Italia può fornire all'interno delle installazioni. Cresto Italia ovviamente è un prodotto a 360 gradi che può prestarsi per installazioni 100% Cresto, non così come aprirsi verso tutti gli altri apparati, pertanto il nostro servizio è proprio quello di far comprendere allo studio quali siano le soluzioni ottimali, fornendo principalmente degli schemi di massima, di funzionamento e di cablaggio che gli studi possono utilizzare e dando, cosa anche molto importante, delle stime di budget, di costo, di quelli che sono gli impianti che andiamo a proporre. La stima di costo è fondamentale perché in numerose situazioni consente di dare un'idea al committente di quelli che possono essere i costi che devono essere affrontati per realizzare i requisiti che sono stati richiesti in fase di progettazione. Per noi lo studio di progettazione è un'interfaccia veramente importante perché si presenta a noi con progetti in fase di realizzazione, vale a dire danno tutta la libertà e tutta la possibilità di realizzare impianti già pensati sul loro nascere per essere integrati e questo è una garanzia di totale integrazione, di semplicità di gestione e di buona riuscita del progetto verso i clienti finali. La giornata di oggi è la seconda giornata che noi dedichiamo unicamente agli studi di progettazione, di architettura e ai consulenti. La prima l'abbiamo fatta a partire dal 19 marzo, la prima data è stata fatta proprio a Milano, l'inaugurazione. La nostra intenzione è di fare giornate di questo tipo con una certa cadenza in quanto sono giornate di confronto, sono giornate in cui noi come Creston proponiamo soluzioni ma nello stesso tempo impariamo direttamente da chi è sul campo nella progettazione a capire quali sono gli strumenti più adeguati per creare impianti rivolti all'automazione.